Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore Tra poco tornerà in teatro. In questi giorni ha interrotto le sue vacanze per tornare a casa. C'è un copione che l'aspetta ed una nuova affascinante avventura da vivere intensamente. Nelle stesse ore, però, da tutt'altra parte si decide anche il suo destino. A Cologno-Monzese si sta programmando la prossima stagione delle reti Mediaset ed il suo nome è tra quelli che hanno accanto un grande punto interrogativo. Che ne sarà di Barbara D'Urso, sulle reti Mediaset, nella prossima stagione? Barbara D'Urso ed il ritorno in teatro, un ritorno veloce dalle meritate ferie. Il copione deve essere studiato perfettamente. Il ritorno in teatro è un momento che la conduttrice napoletana attende con grande impazienza. Taxi a due piazze è il titolo della commedia che vedrà protagonista la conduttrice di Pomeriggio 5. Nelle scorse ore Barbara D'Urso, nelle sue storie Instagram ha informato i soltanti fan che, intanto, nelle quiete, mi porto avanti per il debutto del 14 febbraio. Ma se il teatro è un appuntamento sicuro nell'arco della prossima stagione della conduttrice-attrice Campana, il resto rimane ancora avvolto nel mistero. A coprire però di nuvole neri il futuro di Barbara D'Urso ci ha pensato D'Ago Spia poiché le novità che riguardano la conduttrice napoletana non sono poi molto positive. Esattamente di cosa parla l'indiscrezione del sito di Roberto D'Agostino? Rinnovo del contratto in forte dubbio, sono almeno un paio di stagioni che Barbara D'Urso e Mediaset non riescono a trovare la quadra per proseguire, con reciproca soddisfazione, un rapporto che dura ormai da tanti anni. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset in vista della prossima stagione, Pier Silvio Berlusconi sembrava avesse aperto ad una prosecuzione soddisfacente del rapporto tra la conduttrice e l'azienda di Cologno Monzese. Adesso però D'Ago Spia parla di un Pier Silvio Berlusconi che, in realtà, avrebbe rivelato alla conduttrice napoletana che quello di cui ha bisogno la rete, in vista della prossima stagione, qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò che lei propone nei suoi programmi. Fine del rapporto? Al momento, come ci conferma Gossipblog.it, non vi sono state né conferme né smentite a questa indiscrezione lanciata da D'Ago Spia. Sicuramente il graduale taglio di programmi ed il continuo ridimensionamento dei suoi spazi all'interno delle reti del Biscione possono essere stati dei chiari messaggi da parte dell'azienda alla nota conduttrice. Adesso per Mediaset è arrivato il momento delle decisioni da prendere e da comunicare alla diretta interessata. Al momento Barbara D'Urso è impegnata nello studio del copione per il suo prossimo impegno teatrale. Taxi a due piazze l'attende in teatro, nella speranza che un taxi non l'attenda fuori dagli studi Mediaset per un mesto congedo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente.